Ogni tanto vedete degli appelli circolare sui social che dicono dell'arrivo di un insetto pericolosissimo in Italia da cui bisogna difendersi, come bisogna difendersi da altri insetti presenti nel nostro stato che potrebbero causarvi dei gravi problemi. Beh che che se ne dica gli insetti più pericolosi in Italia sono vespe, calabroni e qualche altro in menottero, quindi il pericolo non va ricercato in insetti fugaci che vedrete una sola volta nella vostra vita, ma il pericolo senza usare l'intelletto potrebbe essere dietro l'angolo.